L'Unione Sportiva Lecce e il suo pubblico, una storia con luci ombra, stagioni con migliaia di abbonati, le ultime invece con poche centinaia di tagliandi al Via del Mare. Quanto è importante la spinta del pubblico? Certamente in un campionato come quello della Serie A è determinante l'apporto del pubblico, è un campionato così duro. Leggiamo dai giornali e apprendiamo che la società vorrebbe superare gli 8 mila tagliandi fatti nella stagione dei record contro i 2 mila fatti così ultimamente. Ritengo che bisognerà combattere sicuramente con una buona campagna pubblicitaria l'offerta delle revisioni satellitari che ormai è diventata talmente vasta e ampia e allettevole che bisogna certamente trovare delle soluzioni famiglia, giovani e pubblico in genere per poterlo portare tutti quanti con un'offerta molto ampia. Direi che forse oltre all'abbonamento per l'intera stagione potrebbe anche studiare dei pacchetti di partite in maniera tale da consentire a tutti, anche a chi non può eventualmente acquistare l'intero abbonamento, poter partecipare e stare vicino alla squadra.